Musica Mercoledì 27 dicembre 2017, ben trovati, appuntamento con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa che apriamo come sempre con la lettura dei quotidiani partendo dalle prime pagine dei giornali abruzzesi, oggi ne dico, siamo al centro, l'edizione di Pescara, il titolo principale riguarda la politica, politica comunale perché il sindaco di Pescara Marco Alessandrini, come leggiamo da questo titolo, punta al secondo mandato, Alessandrini in corsa, ma il PD vuole d'amico se nel 2019 nascerà la nuova Pescara e dunque ci sono già più candidati per guidare la città adriatica nel prossimo mandato elettorale. E poi la foto di centropagina, il credito cooperativo di Castiglione e Pianella ha fatto festa con tutti i soci e con gli studenti, 2.700 i soci che hanno partecipato a questa conviviale. Vediamo anche le notizie di cronaca a Pescara, auto incendiata la vittima e un imprenditore, a Pianella ladri di Natale rubate le offerte durante la messa, città Sant'Angelo grave ventenne colto da malore mentre era alla guida di un'auto. E poi il concorso sul pallone d'oro abruzzese 2017. Il vincitore è Roberto Inglese, vastese doc bomber del Chievo che si è aggiudicato questa speciale classifica precedendo Di Francesco e Del Pinto. Andiamo a vedere la prima pagina del centro edizione di Chieti Lanciano Vasto, in questo caso il titolo riguarda il capoluogo di provincia Chieti, crolla il tetto di Palazzo Enrici, si apre uno squarcio di 10 metri nell'immobile storico che si trova nel corso di Chieti. E poi la natività in scena a Brecciarola in 10.000 al presepe, in tanti lo seguono sul telefonino le cronache, andiamo a vasto pugile ferito dalla coltellata del cognato Lanciano, cantieri aperti da tanti anni, basta attese. E poi a Chieti caccia al milionario di Natale. Andiamo a vedere la prima pagina del centro edizione di Teramo, la cronaca giudiziaria nel titolo di apertura di pagina, tre anni e parte civile contro il papà, lo ha visto picchiare la mamma per il giudice e vittima di violenza. Vediamo poi un'altra rappresentazione della natività anche a Giulianova e poi si rinnova il magico presepe vivente di Cerqueto che vedete nella foto. Controguerra, cadavere senza nome trovato lungo il Tronto, cadavere di un uomo stato rinvenuto sull'argine del fiume Tronto. Sono in corso le indagini per risalire all'identità di questa persona e per chiarire anche le cause della morte. E poi Tancredi, io in corsa per Roma, ipotesi remota all'intervista all'interno del giornale. Poi ad Atri si pensa alle prossime elezioni per la nomina del primo cittadino, il centrodestra Candida Ferretti come sindaco. Andiamo a vedere anche la prima pagina del centro edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Migliaia di cittadini a Collemaggio, l'Aquila pienone di visitatori durante le feste ma spuntano problemi organizzativi. E poi Pianola, la magia del presepe vivente, incanta la folla. Avezzano fiera per 20.000 tra prodotti locali e novità. E poi una notizia che arriva da Sulmona. Gasdotto Casini conferma le dimissioni. Dunque il primo cittadino della città Peligna conferma al momento le sue dimissioni. Andiamo a vedere anche quello che accade nella Marsica. Celano torna a casa e costringe i ladri. Alla fuga è accaduto nella cittadina marsicana. Andiamo a vedere anche la prima pagina, come sempre, dell'inserto Abruzzo del messaggero. L'apertura è dedicata alla questione gasdotto di Sulmona. Il Tar blocchi il gasdotto. La regione sta predisponendo a tempo di record il ricorso contro la centrale. Il sindaco Casini dovrebbe formalizzare già oggi le dimissioni. Appello agli altri sindaci. E poi le associazioni di categoria parlano dopo l'approvazione del bilancio regionale e dicono le piccole imprese sono in ginocchio. E poi Abruzzesi nel mondo, vedete qui di fianco, è festa solo se c'è la terra d'origine. Nel cuore tanti abruzzesi che vivono lontano dalla terra natia, ovviamente durante le feste, ricordano proprio la terra d'origine. Andiamo a vedere a centro pagina la cronaca. Pugile ha coltellato la gola durante il pranzo di Natale. E poi Chieti, colpo grosso al superneralotto, gioca due euro e vince un milione. In basso l'addio dell'Abruzzo e della politica a Rosini, politico di razza scomparso nei giorni scorsi. Andiamo a vedere anche, dopo aver visto i titoli di centro pagina, in alto altri richiami che riguardano il messaggero Abruzzo. A Teramo, in Natale dei poveri, posti a mensa e pacchi alimentari dalla Caritas. E poi Pescara, i due dormitori ancora chiusi. L'assessore offre un suo locale. E poi il calcio di Serie B, campionato che tornerà domani con il Pescara impegnato allo Stadio Adriatico alle 20.30 con il Venezia di Pippo Inzaghi. Parla l'ex tecnico Maifredi, un assist a Zeman, maestro di calcio e spettacolo. Andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano. La città, il ruzzo cerca nuove sorgenti sicure. Dopo i problemi per emergenze e contaminazioni. Caccia a nuove fonti per alimentare l'acquedotto. Vediamo in alto altri titoli di argomenti che troveremo all'interno del giornale. Cittadinanze facili, l'inchiesta arriva alle battute finali. Poi politica, salta la nomina di Tancreti alla Consob. E poi Atri al voto. Abbiamo visto anche dalla prima pagina del centro. Il centrodestra ufficializza ad Atri la candidatura di Ferretti. E poi Teramo, Spedale Mazzini, Villani e Minuti alla guida dei reparti chiave. E poi Controguerra, questo è il titolo di questo fatto di cronaca, trovato un cadavere in riva al fiume, scoperto ieri mattina da un passante. Il cadavere di un uomo. Sono in corso le indagini. E poi lo sport. Il Teramo, per il Teramo, per i biancorossi, il 2017 è stato un anno all'insegna del pareggio. Lasciamo le prime pagine dunque dei quotidiani abruzzesi. Possiamo andare a vedere come sempre nell'ambito dell'edicola nazionale le prime pagine dei giornali partendo dal Corriere della Sera. Scontro sui soldati in Niger. Domani l'ultimo Consiglio dei Ministri. Sinistra divisa sulla missione. Critica anche perché la Lega Calenda dice che occorre una nuova costituente. Le riforme non vanno fermate. E poi lutto nella enogastronomia italiana perché è scomparso Gualtiero Marchesi, scansonatore dell'Alta Cucina, come leggiamo anche da questo articolo del Corriere della Sera, che rende omaggio a Gualtiero Marchesi, scomparso all'età di 87 anni. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Repubblica. La politica in primo piano. Camere si chiude, ma sullo Ius soli appelli e proteste. Mattarella decide la fine della legislatura. Voto sulla cittadinanza. Mancano i numeri, le storie dei ragazzi figli di un'Italia minore. Dunque ancora polemiche per la mancata approvazione dello Ius soli. E poi andiamo in basso. Nessuno vuol far pubblicità su autobus e tram di Roma. Sponsor temono il degrado. È andata deserta la gara per aggiudicarsi dunque le pubblicità sui bus e i tram della capitale. Andiamo avanti. Il messaggero, prima pagina del messaggero nazionale. Missione anti-scafisti in Niger. Camere al termine. Voto a marzo. Il governo invia militari e mezzi sulla rotta dei trafficanti. Ultima lite sul decreto. Cudinale pronto a chiudere già domani alle urne. Il prossimo 4 marzo. Rinviato lo Ius soli. E poi scuola fuori dai ruoli. 55 mila supplenti. Il diploma non basta. Decisione del Consiglio di Stato. Serve la laurea. Sciopero al riento in classe dopo le feste natalizie. Poi Libia. Attacco Isis all'oleodotto. Il prezzo del petrolio si impenna. Vediamo un altro titolo in alto. Riguarda il calcio. La Coppa Italia. Vedete proprio nella parte alta della pagina. Un lampo di Lulic. La Lazio in semifinale. Battuta ieri sera la Fiorentina allo stadio olimpico per 1-0. A proposito di Coppa Italia. Questa sera si giocherà a Milano il derby della Madonnina. Derby di Coppa tra Milan e Inter che non stanno attraversando un momento sicuramente favorevole. In basso il ricovero in ospedale di Vittorio Cerchigori. La Marini e Cerchigori. Vittorio è il mio ex lasciato solo da tutti. Questa è la denuncia di Valeria Marini. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Fatto Quotidiano. La corsa al nuovo oro nella fabbrica Debiticon. Nella Bulgaria ex comunista. Dove nasce la criptomoneta. La politica. Centropagina. Renzi. Missione compiuta. Ora al 40%. C'è il centrodestra di Berlusconi. Scrive nel richiamo in alto dell'articolo sempre fatto quotidiano. Lo scandalo banca e affossa il PD ai minimi storici nei sondaggi. Dal Fatto Quotidiano al Libero. Il quotidiano, diretto da Vittorio Feltri, mandano a casa i parlamentari. Finalmente se ne vanno. Titola Libero. Domani Mattarella scioglierà le camere. Più scadenti di sempre. Ma i prossimi onorevoli rischiano di essere peggiori. I democratici grillini costituiscono una miscela rovinosa. Basterebbe copiare Trump e gli austriaci per andare bene. E poi vedete a centropagina poveri ma ricchissimi. Batte tutti al botteghino. Il film di Brizzi, presunto molestatore, è il re degli incassi. Grande successo per il film del regista italiano. E poi vedete più in basso il Papa Maria Giuseppe erano migranti. Ennesimo sfondone di Papa Bergoglio. Scrive il quotidiano Libero. Andiamo a vedere il mattino di Napoli. La cronaca in alto. In primo piano Luigi Arturo feriti due volte dalla violenza e dal silenzio. Il 14enne colpito a parete da un proiettile vagante. Il 17enne ha coltellato a Napoli. Sono vittime di un Natale del rischio e dell'omertà. E poi l'intervista del mattino al presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. L'Italia deve contare di più. In Europa puntare i piedi con Francia e Germania su immigrazione e lavoro. Questa l'intervista del mattino al presidente italiano del Parlamento europeo Antonio Tajani. E poi in basso anche il quotidiano in mattino dedica un ricordo, un saluto a Gualtiero Marchesi, maestro della cucina. Proseguiamo. Siamo alla stampa di Torino. Nomine Europa Conti Immigranti Gentiloni ai tempi supplementari. Si scioglie il Parlamento. Un'agenda di peso per il Premier che resta. E poi al nord emergenza smog. La pioggia non basta. In arrivo il maltempo. Ma a Torino, in Lombardia e Veneto scattano i blocchi alle auto. Gli esperti non tutte le polveri dicono. Sono dannose. Andiamo a vedere anche la prima pagina del tempo. Le lettere segrete dei Savoia. L'esclusivo del quotidiano romano. Ecco il carteggio tra la famiglia reale e le massime autorità di Italia e Vaticano. Retroscena e trattative inconfessabili sul rientro delle salme di Elena e Vittorio Emanuele. Terzo. Proseguiamo. Il sole 24 ore. Quotidiano economico. Si parla di pensioni nel titolo di apertura. Tutte le novità. L'anticipo sarà più facile. A gennaio partono gli aumenti degli assegni. Lasciamo anche la prima pagina del sole 24 ore. Siamo al manifesto. Mare d'inverno. Si parla di immigrati. Tre naufraghi nel mare. In tempesta del canale di Sicilia decine i migranti tratti in salvo ma si temono dispersi. Le SOS delle uniche due ongri rimaste nel Mediterraneo dopo il decreto Minniti che ora annuncia corridoi legali. Siamo al quotidiano di Genova. Il secolo XIX. Si parla di politica. In questo caso in apertura. Gentiloni passa ma non chiude. Nomine banche, sicurezza e migranti. Nell'agenda del premier in scadenza. Camere sciolte entro fine anno. Nel 2018 stangata di 952 euro per energia e trasporti. Siamo al secolo d'Italia. Lo scioglimento. Questo è il titolo con la foto della Camera dei Deputati perché ovviamente si parla dello scioglimento delle Camere delle prossime elezioni che dovrebbero tenersi il 4 di marzo. Siamo al quotidiano La Verità. Il matrimonio improprio tra Ferrovie dello Stato e Anas e treni e strade. La grande abbuffata titola La Verità con un blitz prenatalizio. Renzi e Gentiloni battezzano un mostro senza precedenti. Obiettivo privatizzare e quotare in borsa i gioielli pubblici confermando alla guida manager amici. Ma ci sono già due ricorsi e molti dubbi finanziari. Siamo al quotidiano della conferenza episcopale italiana a venire. I bambini traditi. Il Papa nei loro volti tutte le ferite del mondo. Ius culturae. Appello al colle dai nuovi italiani. E poi a centropagina politica estera. Pronta la missione in Niger. Non di combattimento. Forse già oggi il decreto del governo. In gennaio coinvolti da 120 a 470 militari. A venire era l'ultimo quotidiano nazionale che abbiamo preso in edicola. Abbiamo visto in apertura come sempre le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. E noi torniamo a parlare di cose di casa nostra. Ripartendo dal quotidiano Il Centro. Da pagina 2 si parla della nuova legge. In Abruzzo sport. Due milioni per eventi e scuole. Vedete il titolo di apertura di pagina 2. La regione stanzia fondi per manifestazioni di sci a Roccaraso. Atletica a Pescara. Tennis a Chieti. E mountain bike nel Teramano. E poi ci sono però le polemiche dopo l'approvazione del bilancio da parte delle piccole imprese. Delle associazioni di categorie artigiani e piccole imprese. Noi dicono traditi dal bilancio. E poi negozi aperti anche a Natale. La protesta in Abruzzo che si è tenuta ieri. Andiamo avanti. Il simbolo d'Abruzzo è rinato. Siamo a pagina 3. Da Collemaggio riparte la speranza. L'Aquila. La messa di Natale nella Basilica riaperta raccontata da Giustino Parisse. Ora ricostruiamo il futuro. Quella di ieri è stata una giornata importante per l'Aquila perché dopo la riapertura di Collemaggio tanti aquilani hanno seguito la messa di Natale della Vigilia proprio nella Basilica riaperta. Poi Teleton. L'Abruzzo ha donato 109.170 euro. Pescara la provincia più generosa seguita dall'Aquila. In Italia sono stati raccolti più di 10 milioni. E poi la politica nazionale prima di passare alle cronache dalle province. Lo scioglimento delle camere verso le elezioni. Domani la firma il capo dello Stato. Mattarella ha deciso di chiudere la sedicesima legislatura con le ultime polemiche. Già clima da campagna elettorale. Andiamo a vedere ora le pagine che riguardano le cronache provinciali. Siamo però la seconda pagina ad Abruzzo dopo quella di apertura. Accesso ai finanziamenti dell'Unione Europea. Abruzzo chiama Europa. Progetto pilota da replicare. Il sottosegretario Gozi scrive alla conferenza delle regioni e a Lanci. Nazionale i workshop svolti in collaborazione con il centro. Sono un modello per tutti. E poi di spalla quest'altro articolo. Liberati al lavoro per ricrea e per la rinascita dell'Aquila. Parla il presidente del BCC di Roma, Francesco Liberati. Siamo alle pagine dalle province. Come vi dicevo partiamo da Pescara perché si guarda al voto. Centro-sinistra verso il voto. In questo caso parliamo del governo della città di Pescara. Alessandrino D'Amico, futuri candidati sindaco. Questo il titolo di apertura. Il primo cittadino costretto a rinunciare a Roma per far posto alla Chiavaroli. Il rettore ipoteca. La poltrona della nuova Pescara. D'Alfonso pronto per il Senato. Queste le indiscrezioni pubblicate dal centro. Il presidente della regione, leggiamo in questo sommario, avrebbe deciso di correre potendo poi restare la guida della Giunta per altri sei mesi. A settembre il timone passerebbe al suo vice Lolli. E poi la grande città, la nuova Pescara, l'ultimatum del governatore ed il silenzio dei comuni. La cronaca. Incendio in zona stadio bruciata. Siamo sempre a Pescara. La macchina di un imprenditore. Il rogo di origine dolosa ha piccato durante la notte di Natale. I proprietari dell'auto, una mini, erano appena rincasati. E poi 80 poveri ospiti di famiglie pescaresi. I pranzi di Natale e Santo Stefano serviti 500 pasti nelle mense pescaresi all'aeroporto d'Abruzzo. E in basso la misericordia di Pescara, lo vedete nella foto, porta i giochi nelle case famiglia della città. I ladri non si fermano neanche a Natale. Ladri che rubano le offerte nella notte di Natale. Furto al convento dei frati durante la messa. Alcuni fedeli hanno sorpresi i melviventi e tentato di fermarli. Questo è il titolo di questo fatto di cronaca accaduto a Pianella. Poi a Natale, ai colli, l'auto si ribalta. Paura per quattro ragazzi. E poi incidenti vicino alla rondò di via Rapietra, investita in via del santuario. La donna stava attraversando. Ha riportato la frattura di una tibia. Andiamo a vedere anche l'altra pagina dedicata alla cronaca di Pescara. Il vescovo consola i poveri, ma non li raccomando. Ogni giorno da Valentinetti, il vescovo della diocesi di Pescara Penne, decine di disperati in cerca di aiuto e di un lavoro. Non vogliono entrare in questo meccanismo. Non voglio, dice il vescovo, entrare in questo meccanismo. È la politica che deve dare risposte. E poi un lutto che riguarda la sanità pescarese. Anestesisti, il lutto per la morte di Attilio Cupaiolo, anestesista abruzzese, scomparso il 24 dicembre. E poi gli alunni del maestro amico si ritrovano dopo 30 anni, elementare del 75 di spoltore. Questa foto ricordo per questi ex ragazzi che si sono ritrovati a 30 anni di distanza dall'anno scolastico. E poi al Paladin Martin di Montesilvano il credito cooperativo fa festa con 2.700 soci e gli ospiti della Caritas. Folla alla cena di Natale della BCC di Castiglione Pianella e il Presidente Savini vicini al territorio e attenti al sociale. Siamo a Montesilvano, nuove povertà, impori a menza, i maggiori aiuti alle famiglie italiane. Vedete il titolo di apertura. In cinque mesi sono state 162 le persone assistite in città. Il refertorio ha osservito oltre 4.500 pasti e più bisognosi. Questo è il titolo di apertura, sempre in crescita. Purtroppo il numero dei nuovi poveri. Poi associazioni, casa del volontariato, domande entro il 15 gennaio. E poi Christmas Village al Paladin Martin, oggi magie e teatro con Panecotte e Zizi. A Cavaticchi si celebra la natività spoltore presepe vivente con oltre 150 figuranti, diretto da Don Mario Probi. Andiamo avanti, siamo alla pagina di Francavilla dell'area metropolitana e della bassa Val Pescara. Scontro fra auto e furgone sul nazionale. Tre feriti a Francavilla al mare. Vedete questo titolo in alto. Sono intervenuti anche i carabinieri. E poi scuola Dragonara, via i lavori, San Giovanni e Teatino. Il comune dice sì al progetto di manutenzione straordinaria del plesso. Andiamo a vedere anche la pagina di Penne, Popoli e dell'Alta Val Pescara. Malore, mentre guida grave un ventenne città Sant'Angelo. Il giove stava tornando a Colle Corvino con la fidanzata. All'improvviso si è sentito male ed è finito con l'auto contro un albero. È stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato trasferito all'ospedale di Pescara. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri della compagnia di Montesilvano. E poi Popoli. Sindaco e PD plaudono alla proroga per l'ospedale. Penne, sede dei vigili del fuoco Semproni, dice il sindaco di Penne, presidio nazionale. E poi Frane, quattro anni da incubo. Penne, strade mulattiere, residenti e aziende. In ginocchio. Siamo alla pagina di Chieti del quotidiano Il Centro. Fortuna sotto le feste a Chieti. Tutti a caccia del milionario di Natale. Gioca a due euro e pensate vince un milione in Corso Maruccino. Il tabaccaio di sconsi. Nessuno si è fatto vivo. Forse è di fuori città. Accoltella il cognato dopo la lite tramogli. Pescatore arrestato a vasto per il tentato omicidio del pugge urbano. La difesa dice legittima difesa. Siamo alla pagina dell'Aquila. In questo caso siamo a Sulmona. Sulmona protesta contro la centrale Snam. Gasdotto. Casini conferma le dimissioni. Oggi la sindaca dovrebbe protocollare la decisione. appello ai parlamentari e ai primi cittadini del comprensorio. E in basso rissa di Natale anche nell'area Peligna. Scazzottata tra gruppi di giovani sulmonesi e pratolani. In tre all'ospedale. Sette e sette sospettati. Siamo alla pagina di Teramo. L'inferno domestico con il caso giudiziario che vede protagonista in diretto un bambino di tre anni. anni. Vede papà picchiare la mamma. Bimbo di tre anni. Parte civile. Questo è il titolo principale. Il giudice ammette il piccolo. Vittima della cosiddetta violenza assistita nel processo in cui il padre è imputato per maltrattamenti. La donna che ha denunciato gli abusi è una professionista. E poi il giallo della pittrice Renata Rapposelli. La plastica nella scarpata non è dell'auto. Dei Santoleri. Andiamo in basso. Siamo a Silvi. La cronaca in questo caso. Famiglia fugge dalla casa che va a fuoco. Le fiamme si sprigionano di notte dalle luminarie di Natale. In salvo una coppia con due figlie piccole. Poi l'intervento dei vigili del fuoco. Siamo arrivati alle pagine dello sport del centro. Allora possiamo fermarci per qualche attimo. Andare a vedere insieme le previsioni del tempo per le prossime ore. Poi torneremo come sempre in studio per proseguire la lettura dei giornali nella seconda parte di mattino 6. Eccoci qui. Seconda parte di mattino 6. Avevamo esaurito la lettura delle pagine di cronaca del centro. Siamo al messaggero. L'inserto Abruzzo. Pagina 2. Si parla della battaglia per l'ambiente. Vedete il titolo in primo piano. Metanodotto. La regione prepara il ricorso per bloccare la centrale. Sul Mona entra oggi il sindaco Casini. Potrebbe restituire la fascia. Il vice governatore Giovanni Lolli. Un grave errore che va corretto, dice Lolli. E dunque ci sono le dimissioni del sindaco. Ma si lavora anche per questo ricorso al TAR, come abbiamo letto anche dagli altri quotidiani. Poi elezioni. Si lavora alle liste per il caso Teramo. Si lavora alle liste per le prossime elezioni. Il caso Teramo scuote Forza Italia. Previsioni negative per il PD. E poi la polemica in basso. Si parla di piccole imprese abbandonate. Confartigianato, CNA, CLA e Casa Artigiani. Neppure un euro nel bilancio per la categoria. E dunque è stato approvato il bilancio. Ma le piccole imprese, come leggiamo anche da questo articolo, da questo titolo. In particolare si sentono abbandonate. Siamo alla pagina di Pescara del messaggero Allegrino, in soccorso dei clochard. L'assessore alle politiche sociali del comune di Pescara, dunque in campo, in prima persona. Il comune si trova in ritardo sull'apertura delle strutture. L'assessore al sociale mette a disposizione un proprio spazio. Il consigliere del Movimento 5 Stelle di Pillo dice urge un nuovo ricovero per senza tetto. La denuncia incendiate da Balordi le coperte dei disperati. E poi vedete l'articolo di Spalla. Nassi in azione anche a Natale multe e sequestri a due ambulanti. E poi Maragno nel nome di Madre Teresa. Siamo a Montesilvano. Francesco Maragno, il sindaco di Montesilvano. In cinque mesi, dice il primo cittadino. Forniti 4.500 pasti. A Montesilvano, mensa dei poveri, frequentata da italiani e stranieri. All'Emporio, in 162, trovano la spesa. E poi Sandro ci dà un taglio. Chiudo dopo 64 anni. Siamo a Pescara di Girolamo, uno dei pionieri per quanto riguarda gli acconciatori per uomo. Abbassa la saracinesca dello storico barbiere di Via Regina Elena. Tra i suoi clienti d'Angelo Sante, Salini, Torlontano, Novello, Pilota e De Camilli. Se vedete nella foto proprio la barberia di Girolamo. Andiamo avanti. Sempre dalle pagine di Pescara e dell'area metropolitana. Colle del Telegrafo, lite in Cassazione. Gli re di Michetti smentiscono l'accordo con il Comune. Mai visto un soldo. Dicono avanti con la battaglia legale. Vicentino acquistò a carissimo prezzo quell'area edificabile per costruirci un albergo. Poi seguirono il vincolo. E l'esproprio. La cronaca. Partiamo da Penne. Fermato da un carabiniere denunciato, ubriaco nel parco, con mazza da baseball e coltello. E poi Colle Corvino, anzi a città Sant'Angelo per meglio dire, un ragazzo di Colle Corvino ferito dopo un incidente. E' andato a finire contro un albero con la sua auto dopo aver accusato un malore. E' stato ricoverato all'ospedale di Pescara. E poi musicoterapia. Noteliete per i pazienti in ospedale. Luisa D'Annunzio, il conservatorio di Pescara. Dal 2002 in corso accademico selettivo assicura lavoro nelle strutture sanitarie. Cura e sollievo. Il professor Feliciani illustra i futuri obiettivi e progetti più interessanti. In medicina. Siamo alla pagina dell'Aquila. Sempre del messaggero Intex. Una tale di lotta per i dipendenti licenziati. Sit-in davanti alla sede dello stabilimento. Neanche il coraggio di parlarci di persone. In questi giorni di festa sono stati disattivati gli acconti di posta elettronica aziendale. E poi Colle Maggio. Vedete la foto, l'articolo di spalla. Gran folla, la messa della vigilia. Tanti aquilani, ma anche tanti turisti hanno voluto seguire la messa proprio nella cattedrale, nella basilica di Colle Maggio, riaperta dopo i lavori post terremoto. E poi maltrattamenti in famiglia. Picchia e perseguita l'ex coniuge. Patteggia 18 mesi. E poi in basso. Farmacia proroga di 6 mesi per Avezzano. E poi fermato in città con loro nell'auto. Membro di una pericolosa banda. Siamo alla pagina ancora del capoluogo di regione. Tutto esaurito per il capodanno nei borghi della nostra regione, soprattutto in questo caso dell'Aquilano. Santo Stefano di Sessanio e Calascio. Sold out già da molti giorni. Ricco il calendario di eventi musicali e proposte gastronomiche. Il sindaco Santavicca dice c'è un bel movimento e quest'anno siamo tornati a registrare anche il turismo destagionizzato. Siamo in basso. I capolavori museali architettonici a misura dei portatori di handicap. E poi Giannangeli, la figura più rappresentativa della cultura abruzzese del secondo novecento. Ottaviano Giannangeli scomparso all'ospedale di Sulmona dieci giorni fa all'età di 94 anni. Proseguiamo. Siamo alla pagina della Marsica e dell'area Peligna. Gran pienone alla fiera blindata. Siamo ad Avezzano. Questo è il titolo di apertura di pagina 41. Tutte le vie di accesso al centro sono state bloccate dalle barriere stradali e dalle auto della protezione civile. 300 gli espositori. Il falso allarme a San Benedetto di una bomba dell'Isis provoca tensione in tutta la Marsica. Prato la Peligna. Madonna della Libera profanato il presepe. Invece a Civitella Roveto svaliggiate due case nella notte di Natale. In basso a Pescasseroli l'Orsa Yoga deve essere operata di ernia. E poi a Sulmona un lutto. Muore una settimana dopo l'investimento. Il lutto anche nella Marsica perché è morto l'ex consigliere regionale Antonio Rosini. Siamo alla pagina di Chieti del messaggero. Vecchio ospedale lobby blocca l'apertura dei poliambulatori. La consigliera Donatelli. Denuncia ostilità per i giochi di potere politico e utilitarismo. Appello alla Commissione Sanità della Regione per attivare il progetto nella città. Capoluogo. E poi concerto a quattro mani. Domani sera al Marrucino. Il duo composto dal maestre Michele Campanella e Monica Leone si esibirà nella serata del Rotary Club. E poi la protesta davanti all'IKEA. Mobilitazione contro la grande distribuzione. In basso. E caccia al milionario di Natale. Forse è un operaio. Il nuovo Nababbo che come abbiamo visto anche in precedenza delle pagine del centro, giocando due soli euro, ha portato a casa due milioni di euro. Sicuramente un Natale con i fiocchi indimenticabile per questa persona. L'ho colpito per difendere mia moglie. Siamo a vasto oggi l'interrogatorio del pescatore che ha coltellato a Natale il cognato. è accaduto proprio durante le feste natalizie. E poi siamo ad Ortona. Cammino di Sant'Omaso. Tante richieste dalle diocesi. E poi vasto scienza e astronatale. Un viaggio fra le stelle. A Ortona. Studenti super bravi. Ecco tutti i premiati. Si tratta di 18 studenti. E poi colonne perforato. chiede 100 mila euro. Alla ASL. Siamo a Lanciano. E sempre a Lanciano. Strada interrotta. Spunta. Cartello. Ironico. Siamo alla pagina di Teramo. Del messaggero. Si parla di nuovi poveri. La povertà ancora in aumento. Si rafforza il sistema degli aiuti. Disoccupati, separati, madri con bimbi che non possono nemmeno pagare le cure. In crescita i casi seguiti dalla Caritas. se c'è gente che vive giorno per giorno. E questa è purtroppo una notizia che accomuna tutte le province della nostra regione. Siamo a Teramo. Teramo Ambiente. La Team si ferma per le feste. La sporcizia regna sovrana. E poi Monsignor Leuzzi. Ripartiremo insieme. Parla il nuovo vescovo di Teramo Atri, Monsignor Lorenzo Leuzzi, che attraverso le telecamere del web, ha annunciato, ha fatto gli auguri ai teramani. Ricordiamo che il 20 gennaio ci sarà l'insediamento del nuovo vescovo di Teramo. E poi in basso la solidarietà, pompieri e poliziotti, Babbi Natale. In pediatria proseguiamo per spostarci la pagina di Giulianova del messaggero. Più gente ma il commercio soffre. La crisi esaminata dall'ex assessore forcellese che sottolinea anche le scelte sbagliate del passato. E poi ancora Giulianova di spalla. Vedete l'adruncolo bloccato. Vandalinazione a Villa Pozzoni. E poi sempre a Giulianova. Ieri i funerali dello scultore Macellaro. La sua salma sarà cremata domani. In basso siamo in Val Vibrata. Martinsicuro. Veco ha messo al concordato preventito ma 16 lavoratori rischiano la mobilità. L'azienda sta sviluppando nuovi indirizzi. E poi Vibrata sotto controllo può tornare la bandiera blu. Siamo ad Alba Adriatica. Siamo invece noi allo sport ma dobbiamo attendere prima di parlare di sport perché dobbiamo andare a leggere insieme le pagine del quotidiano La Città. Partiamo da pagina 3. Anna Maria Casini va avanti nella sua battaglia. Siamo a Sulmona. Il sindaco non intende ritirare le dimissioni dopo l'ok del governo all'impianto della Snam. E poi Agricoltura. Pubblicate le graduatorie per la promozione, vedete questo titolo, dei vigneti della nostra regione. E poi in basso a centropagina gioca 2 euro al superenalotto e vince un milione a Chieti. E poi in basso penne presidio permanente per evitare nuove tragedie. Allestito un centro operativo della protezione civile e dei vigili del fuoco. Ancora avanti. Acqua sicura. Il ruzzo alla ricerca di nuove sorgenti. Dopo i problemi con le emergenze e le contaminazioni caccia nuove fonti per alimentare l'acquedotto. E poi la vita indipendente. Pelusi scrive a Gesù Bambino per i nuovi tagli della regione. Minuti e Villani alla guida del reparti chiave. Siamo a Teramo. Parliamo di sanità teramana dell'ospedale Mazzini perché dal primo gennaio cambierà il responsabile di cardiochirurgia e chirurgia vascolare in attesa dei concorsi. E poi degrado, albero natalizio dei rifiuti in Viaciotti di servizi nella raccolta della spazzatura a causa delle festività. Consob salta la nomina di Paolo Tancredi. L'onorevole Teramano paga lo scioglimento e la conseguente diaspora del partito di Angelino Alfano. Andiamo ancora avanti. Mercatini natalizi. Siamo sempre a Teramo. Mercatini natalizi stonati nel centro. Malumori per la tre giorni di eventi che di certo non ha rispecchiato le tradizioni delle festività. E' sempre a Teramo. La Polizia di Stato porta i doni ai bambini malati. Gli agenti della volante di Teramo in visita al reparto di pediatria dell'ospedale Mazzini. Andiamo avanti. Siamo alle pagine della provincia. In questo caso siamo a Notaresco. Cittadinanze facili. Inchiesta alle battute finali. La Polizia deposita l'esito degli accertamenti in procura. 20 gli indagati e 8 i comuni coinvolti. Castelnuovo. Bagno di folla per il babbo natale delle Gadit. In basso la cronaca. Serie di incidenti sulle strade Teramane durante le feste di Natale. Val Vibrata al Badriati Calvoto. Renato Rasicci entra in Noi con Salvini. E poi la cronaca. Questo fatto accaduto nelle ultime ore a controguerra. Trovato un cadavere sulla riva del Tronto. L'uomo sarebbe morto a Natale. Forse ucciso da un malore o dal freddo. La terribile scoperta è stata fatta da un passante ieri mattina ancora ignota. La sua identità. E poi in basso muore per un malore il dottore Emilio Muccini, medico di base. Si è sentito male mentre scendeva le scale della sua abitazione in lutto. Rocca di Civitelle. E poi Ancarano ha primavera i lavori per via Massoni. Siamo alla pagina di Giulianova. Solo promesse sulla protezione civile. Associazione ancora senza sede a pochi giorni dalla fine dell'anno. l'ultimatum. Perché l'associazione ha minacciato il trasferimento se non sarà trovata una soluzione a breve. Ancora Giulianova. Vandali notturni devastano l'albero natalizio di Villa Pozzoni. In basso Giulianova piange lo scultore Roberto Macellaro. Mentre per quanto riguarda gli eventi natalizi, pienone in centro storico per il presepe vivente di Giulianova. Il project finisce sul tavolo dell'Anac. Si parla di illuminazione. Siamo a Roseto. Opposizione rosetana pronta alla battaglia legale. Non si esclude il ricorso alla giustizia amministrativa. L'opposizione per evitare un eventuale coinvolgimento aveva deciso di abbandonare l'aula. Silvi, casa in fiamme per colpa delle luci, natalizie, famiglia evacuata. Tornando a Roseto, Alessandro Recchiuti pronto a dialogare con Norante. Il ritorno in campo dell'ex consigliere comunale anima il dibattito politico rosetano. E da Roseto degli Abruzzi ci spostiamo ad Atri perché si pensa al voto, al dopo. Gabriele Astolfi, il centrodestra, ufficializza Pier Giorgio Ferretti, professore di fisica all'Istituto Zoli, sarà il candidato sindaco per le amministrative di Primavera. E poi Pineto, consigliati gli attestati del corso di primo soccorso. E poi in basso, ambiente, più fondi in arrivo per il Parco Marino del Cerrano, aumento di 40 mila euro per i contributi per proprio il Parco Marino da parte del Consiglio regionale. Questa notizia che riguarda tra l'altro proprio il consigliere regionale incaricato alla cultura Luciano Monticelli. Andiamo ancora avanti e questa invece è la pagina proprio della cultura. Se mi inviti a pranzo di scatto una foto, Ale Di Blasio racconta il suo progetto per ritrarre sconosciuti con la Polaroid. E siamo alla pagina dello sport del quotidiano La Città e apriamo dunque ufficialmente la pagina sportiva dell'edizione di oggi di mattino 6. Si parla del Terramo sul quotidiano La Città. Il 2017 è stato l'anno del segno X. In 12 mesi su 37 gare di campionato il diavolo ne ha pareggiate 17. Storia di un cammino a marce basse. La palla a mano. Fondo pagina l'Aions Terramo. Vittoria interna con Tavarnelle. Adesso arriva la pausa di fine anno. E poi il basket. Leto Milus banca Val di Ceppo prima dello stop. La squadra di Di Sato e il Giulianova grazie ad una prova collettiva di livello dunque festeggia. Tomasello top scorer con 17 punti. Lasciamo le pagine dello sport del quotidiano La Città. siamo al centro. Si parla di sport nazionale nella prima pagina. Milan Inter per 50.000. Questa sera il derby di Coppa Italia. Gara unica. Gattuso dice è come una finale. E poi nell'altra partita decide Lulic. Lazio in semifinale. Fiorentina eliminata. Battuta per 1 a 0. Pallone d'oro abruzzese. Il vincitore Roberto Inglese. Vastese. Giocatore del Chievo Verona. L'ascesa di Inglese. 2017 da incorniciare. I voti della giuria qualificata trascinano l'attaccante vastese del Chievo che a gennaio potrebbe passare al Napoli. Vediamo questa classifica redatta dal quotidiano Il Centro per quanto riguarda il pallone d'oro abruzzese del 2017. Il primo Roberto Inglese con una media di 25,5. Secondo Federico Di Francesco attaccante del Bologna 21,39. Terzo il mediano del Benevento Lorenzo Del Pinto tra l'altro ex L'Aquila. 17,13. Poi Daniel Ciofani del Frosinone. Ivan Speranza del Teramo. Al sesto posto il primo giocatore del Pescara è Benali. Poi Bruno Martella terzino del Crotone ma abruzzese ed hoc. Marco Capuano all'ottavo difensore del Cagliari. Al nono Gaston Brugman del Pescara. Al decimo posto il difensore del Teramo Nebil Caidi. E siamo al calcio di Serie B perché domani Pescara torna allo stadio adriatico per l'ultima gara del 2017. Pescara che affronterà ancora una volta in grande emergenza una partita di campionato. Ospite dell'impianto di Viale Pepe sarà il Venezia e sarà Proietti ad essere titolare sicuramente contro la formazione lagunare. Il playmaker tornerà in campo dopo quasi tre mesi e mezzo di stop. Per infortunio in difesa tornerà per rotta in attacco spazio a Capone con Mancuso e Pettinali. Vediamo la sfida ai raggi X. La sfida Pescara-Venezia. Almeno qualche numero delle due formazioni. 25 punti del Pescara, 29 del Venezia. 6 vittorie per parte ma con 11 pareggi del Venezia e 7 del Pescara. 3 sole sconfitte del Venezia. Squadra Mister X, 7 invece del Pescara. 16 punti in casa per i biancazzurri, 14 per i lagunari. In trasferta il Venezia fatto meglio del Pescara ha ottenuto 15 punti contro i 9. Dei biancazzurri notevole la differenza dei gol fatti. 32 per il Pescara, 22 per il Venezia ma è ancora più esplicativa invece la differenza che riguarda le reti subite. ben 37 i gol subiti dal Pescara, pensate 18, 19 in meno quelli del Venezia. I migliori marcatori, Pettinari per il Pescara con 12 gol, Zigoni per il Venezia con 5. Infine i calciatori schierati, 27 dal Pescara, 24 dal Venezia. Vediamo anche da questo specchietto quelle che saranno le partite della ventunesima giornata. Si parte però questa sera con l'anticipo del Tardini tra Parma e Spezia, si giocherà alle 20.30 e poi domani tutte le altre gare sempre alle 20.30. Vellino Ternana, Brescia Ascoli, Carpi Bari, Cremonese Cesena, Entella Novara, Foggia Frosinone, Palermo Salernitana, Perugia Empoli, Pescara Venezia che sarà diretta dal signor Abbattista di Molfetta e Provercelli Cittadella, l'arbitro di Paolo di Avezzano. E intanto sta per aprire battenti il mercato e c'è la prima notizia ufficiosa ma quasi ufficiale perché il portiere Mirco Pigliacelli passa dal Pescara alla Provercelli per il ruolo di vicefiorillo, si pensa a Iannarilli della Viterbese, la pagina dedicata alla Serie C e alla Serie D, il Teramo sarà il primo acquisto del Teramo, a sta spera di poter contare sul regista che è stato spesso fermato dagli infortuni, prima le uscite ma dal mercato arriveranno un esterno mancino e un attaccante. E poi la Serie D perché il 7, domenica 7 gennaio, torna il campionato ma è già ufficiale che il 14 gennaio in occasione del derby del Dei Marsi fra Avezzano e Vastese ci sarà la giornata bianco-verde, gara molto attesa anche dalle due tifoserie. Ciclocross a Chieti, Marcelli mette in riga di Giovanni, successo di partecipazione di pubblico all'Ago Teaterno, assegnate le maglie ai campioni regionali del 2017. Siamo al basket, Roseto pensa al Treviso e al nuovo corso societario, venerdì sera Sharks di nuovo in campo in una sfida proibitiva, il club lavora alla costituzione del Consorzio di Imprese. A gennaio i primi passi e in Serie B Campli e la Ragina De Bruzzo e l'Amatori se la gode, le due squadre, quella Camplese e quella Pescarese, sono le migliori per quanto riguarda il torneo cadetto di basket, il campionato di Serie B maschile di palla-canestro. E questa è l'ultima pagina dello sport del centro, andiamo a vedere invece come commenta il messaggero Le Vicende Biancazzurre, lo fa con un'intervista all'ex tecnico del Pescara Gigi Maifredi, il calcio spettacolo è sempre attuale, lo dice l'ex tecnico della formazione Biancazzurra, dice Maifredi, gli allenatori attuali sono bravi sui social, ora vedo Sdengo che fa più fatica sul collettivo. E poi il carattere di Gelsi e De Santis che parò un rigore avvieri, questo è il racconto del Pescara che fu, e poi lo Zampano Veneziano, siamo in corsa, guerra in famiglia, lo scontro ravvicinato tra i gemelli, però forse non ci sarà perché il Giuseppe Francesco Zampano, e dunque lo Zampano Pescarese, scusate il gioco di parole, è infortunato e dunque dovrebbe dare forfè, non ci sarà la sfida tra fratelli, domani sera all'Adriatico. Siamo alla seconda pagina di Sport, il calcio di Lega Pro, i rinforzi rispettando il budget, è probabile che la società investa su una punta e un difensore di fascia Mancino. Asta e Repetto si consultano per fare il punto, Bacio Terracino è stato l'unico a fare la differenza, ma a questo punto dovrebbe restare Amadio in stand-by, e dunque si parla di mercato anche in casa Teramo. Il volley di Serie A2 con la sieca Ortona, disastro prenatalizio, il caso Benz è ancora aperto per la formazione ortonese che reduce dalla sconfitta per 3-0 in casa dei pugliesi del Gioia del Colle. E poi la pallacanestro, la pallacanestro con le dichiarazioni del coach del Roseto Basket di Paolo Antonio, Sharks ancora in lotta salvezza, ferme l'avversaria diretta, non era a Bologna detto di Paolo Antonio che si poteva vincere, ma ce la siamo giocata. E poi con Carlino e Lupusor in doppia cifra adesso conteranno gli scontri diretti che Roseto giocherà tutti in casa, scontri diretti che Roseto dovrà vincere assolutamente. Torniamo al calcio, al calcio di Serie D, l'Aquila accordo per la convenzione per quanto riguarda la gestione dello stadio e poi il basket invece cadetto di Serie B perché c'è la pausa per le festività natalizie di fine anno, ma l'Amatori giocherà domani, tornerà domani al lavoro dopo quattro giorni di riposo per preparare la gara di Coppa Italia con Omegna perché la formazione pescarese ha ottenuto il lascia passare per giocare le Final Four di Coppa Italia. Restiamo allo sport con le prime pagine, siamo quasi in chiusura con le prime pagine dei quotidiani sportivi abruzzesi oggi in edicola. Partiamo dalla gazzetta dello sport di bala sotto tiro, l'asso dei bianconeri sempre protagonista, siamo ovviamente a parlare della Juventus, gli inglesi sono sicuri, lo United ha la chiave per portarlo a casa. Dunque Paolo Di Bala potrebbe lasciare anche la Juventus, anche perché vedete nel sottotitolo per la Juve è vero che è incedibile ma deve guadagnarsi il posto da titolare nelle ultime giornate. Spesso Di Bala ha iniziato dalla panchina, per meglio dire, da tre gare di campionato Di Bala non è titolare. E poi il titolo principale riguarda ovviamente la Coppa Italia perché questa sera si giocherà alle 20.45 nello stadio Meazza San Siro di Milano. La sfida, il derby tra Milano e Inter, chi riscatta titolo alla gazzetta perché questa partita vedrà di fronte due squadre che sono in crisi di risultati e anche di identità, più il Milan che l'Inter ma anche e soprattutto per questo dunque una vittoria nel derby potrebbe valere davvero tanto. Leggiamo anche nel sommario Gattuso e Spalletti vengono da due sconfitte consecutive in campionato e in questa sfida cercano la svolta per ripartire Rino come una finale mondiale. Luciano, Spalletti tecnico dell'Inter, ribatte. Io ci credo e poi all'interno del giornale, ne parlavamo qualche istante fa, due squadre alla ricerca di se stesse perché Milan e Inter sembrano aver perso la loro identità. E poi ancora calcio dalla prima pagina della gazzetta dello sport, Mancini con il mal di Zenit, il diavolo lo tenta, il tecnico potrebbe accettare una proposta particolarmente ambiziosa, il diavolo sarebbe il Milan. E poi il mercato, Mkhitaryan è pastore i sogni dei Nerazzurri ovvero dell'Inter, Gabigol potrebbe rientrare dal Benfica e dirigersi verso il Santos. E poi ancora la Coppa Italia in basso, Molta Lazio con la Fiorentina Basta Lulic, 1-0 ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma con la vittoria dunque della squadra bianco celeste che affronterà in semifinale la vincente del derby, appunto Milan-Inter. Dalla gazzetta dello sport al Corriere dello sport, parliamo proprio della gara di ieri sera allo Stadio Olimpico, Guizzo Lulic festa Lazio, il bosniaco Gera la Fiorentina, Inzaghi primo semifinalista. E poi fuori 1, questo è il titolo principale del Corriere dello sport, Milan-Inter da cuori forti, Gattuso e Spalletti tesi, chi perdeva in difficoltà, lettera di Mister Lee per i tifosi della formazione rossonera. E poi Juventus, Mourinho vuole di bala, l'abbiamo visto anche dalla gazzetta, c'è l'offerta da 68 milioni, Muro di Marotta, il direttore generale della Juventus. E poi Napoli, missione per Verdi, De Laurentiis cerca subito il sì per giugno, Roma trattativa con il Barcellona, Alex Vidal e il regalo per la fascia. E noi chiudiamo per quanto concerne i quotidiani sportivi nazionali con tutto sport, che come sempre quotidiano torinese dedica molto spazio alle due formazioni di Torino. In alto Torino a nervi tesi, alta tensione Mihajlovic, retroscena il tecnico aveva deciso di mandare la squadra in ritiro dopo il 2-2 con la spalla. Poi il passo indietro di bala, lezioni di Juve, le panchine sono un messaggio a Paolo. Società, allenatore e gruppo vengono prima delle esigenze e dei problemi individuali. Adesso tutti pretendono di più da Di Bala. E poi vedete di spalla, Mina l'Inter e il derby del riscatto. In balla non solo la semifinale, ma anche l'occasione per rilanciarsi dopo gli ultimi flop in campionato. Rebus Donnarumma, chi vince? Trova la Lazio, che come abbiamo visto ha eliminato ieri sera di misura per 1-0 grazie ad un gol di Lulic. La Fiorentina, vediamo da questo riquadro di tutto sport le altre tre gare che si giocheranno per i quarti di finale di Coppa Italia. Come il 2 gennaio Napoli-Atalanta al San Paolo, il 3 gennaio il derby, l'altro derby in questo caso della Mole, Juventus-Torino. E dunque due derby in Coppa Italia per rendere davvero avvincente questo Natale e queste festività di fine anno per tutti gli appassionati di calcio. Noi siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi, del 27 dicembre, con Mattino 6 che tornerà domani puntuale alle 8. Io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia, ringrazio come sempre voi per averci seguito e vi do appuntamento per il prossimo appuntamento informativo della nostra rete, come sempre alle 14 per la prima edizione del Tg6. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Grazie per aver guardato il video.